È l'intersezione via Roma via San Martino ad avere il triste primato dell'incrocio più pericoloso della città nel 2007. È stato reso pubblico questa mattina infatti il piano sulla sicurezza stradale redatto dall'Ufficio Tecnico del Traffico. L'assessore Settimo Capriotti, coadiuvato dall'ingegner Canestrari e dal comandante dei Vigili Urbani Giuseppe Coccia, ha illustrato problemi e migliorie del flusso veicolare sanbenedettese. Ottimi risultati hanno fatto registrare le rotatorie. Quella alla fine di Viale dello Sport ad esempio ha ridotto del 70% gli incidenti. Quella in Via Togliate li ha addirittura azzerati. Ottimo successo anche per la mini rotatoria alla fine di Via Volta e nella modifica del ramo d'ingresso in zona Ballarin nel flusso da nord a sud. Tutti interventi che mirano a ridurre l'incidentalità, l'obiettivo principale dell'amministrazione. Insieme ad esso però c'è anche l'incentivo ad usare i mezzi pubblici. Per questo l'Ufficio Traffico è in cantiere il progetto di una corsia preferenziale per i bus da realizzare in Via Togliatti nel tratto che dalla rotonda arriva fino al liceo di fronte al comune. I risultati dello studio comunque parlano di una sensibile riduzione dei sinistri in città anche se un capitolo a parte merita la Statale 16 dove si registra un vero e proprio bollettino di guerra. In quattro anni ben 530 feriti per incidenti stradali. Anche se il tratto di Via Mazzini dove è stato inserito il nuovo asfalto fa un assorbente sembra avere invece ridotto i pericoli del 50%. Un dato che porterà San Benedetto al centro di un convegno nazionale dell'ANAS che a febbraio si svolgerà a Roma proprio per illustrare le positività dell'intervento. Infine un'ultima curiosità in fatto di traffico. Le donne, al contrario di quanto si possa pensare, sono meno coinvolte rispetto agli uomini nei sinistri in auto. Il detto donna al volante è pericolo costante e quindi non vale più. Grazie a tutti.